buongiorno a tutti sono giacomo turnone del team martinelli remax stella polare gruppo oggi siamo a cisternino in via magellano e vedremo un appartamento dalle grandissime potenzialità ma non voglio anticiparvi niente andiamo a scoprire insieme una delle potenzialità di questo immobile sono gli ampi spazi da questa parte abbiamo una zona al giorno di ben tre vani un primo vano che può essere adibito a una cucina open space un secondo vano che può essere benissimo una cameretta uno studio o un bagno e un terzo vano che già può essere adibito a vano letto proseguendo troviamo questo vano doppio con una cucina e un'ampia zona pranzo che da direttamente accesso a un balcone terrazzato completano anche la proprietà due vani letto e ben tre vani di cui due simmetrici già finemente ristrutturati con impianti nuovi e uno ancora da personalizzare ci sono i dettagli di questo appartamento che però ancora non vi ho raccontato abbiamo degli impianti idrico e di riscaldamento nuovi già divisi per creare due unità abitative indipendenti abbiamo una predisposizione per quanto riguarda gli impianti di condizionamento una facciata dell'intero stabile ristrutturata da pochissimo e poi ultimo ma non in ordine di importanza una fantastica vista della Valle d'Italia quindi se cercate un immobile a cisternino con una vista panoramica chiamatevi